Alma Star Magazine, il web zindarte, vi aspetta ogni mese con i suoi big, le promozioni musicali e molto altro. Only for big, only for star. E ricordatevi, stay star. Alma Star Magazine, il web zindarte, vi aspetta ogni mese con i suoi big, le promozioni musicali e molto altro. Only for big, only for star. E ricordatevi, stay star.